buongiorno a tutti carissimi amici e bentornati sul canale del briga stamattina ragazzi video mattutino ieri non sono riuscito a farlo ma addirittura stanotte pensavo a tutto quello che avevo letto fino a ieri sera e ho detto domani mattina senz'altro ne devo parlare con tutti i miei amici allora innanzitutto ragazzi vi invito a scaricare l'app di one football ripeto ragazzi fatelo non lo dico giusto per fatelo perché per chi ama il calcio avere un'app come quella di one football è veramente ocolato perché ragazzi è un'app molto aggiornata tantissime notizie per la squadra per la vostra squadra del cuore se cliccate sul tasto diciamo se scegliete la vostra squadra verrete sempre avvisati quando ci sono novità quindi ragazzi scaricate l'app di one football e non ve ne pentirete allora ieri è stata fatta diciamo dell'ironia da parte di alcuni giornalisti che non sto a nominare perché poi ogni molti di loro sono anche abbastanza permalosi ma tu pensi che a testa non pensa io in alcune situazioni leggo diciamo tra le linee tra le righe qualche cosa però ovviamente sono sensazioni e quindi mi potrei sbagliare detto questo leggevo con diciamo qualche da qualche da parte di qualche giornalista un po di ironia del tipo le firme di maldini e massara diciamo stanno arrivando forse addirittura in giornata questo ieri voi avete visto queste firme sono arrivati io no e quindi queste firme metteranno fine agli isterismi della maggior parte insomma di alcuni di voi eccetera eccetera allora io vorrei capire ma che cosa c'è da io non so se sono se diciamo ripeto non credo di essere stato isterico in questo senso qua però se ci penso bene forse avrei dovuto esserlo avrei dovuto essere abbastanza isterico e forse lo divento proprio adesso in questo preciso istante perché oggi oggi 21 giugno ha proposto primo giorno estivo vero anche se l'estate qui è già cominciata da un mese è la ma dicevo 21 giugno se non erro al 30 giugno mancano 9 giorni quindi poco più di una settimana io questa firma queste firme benedette non le ho ancora viste non le ho ancora viste quindi queste firme che arrivano e che quindi a dimostrazione del fatto che bisogna aspettare che gli isterismi non vanno mai bene di qua di là eccetera eccetera non lo so perché secondo me non è normale che praticamente a nove giorni dalla fine di un contratto non siano arrivate queste firme per ripeto per l'ennesima volta i veri fautori di questo scudetto insieme al nostro mister quindi lo trovo veramente surreale questo fatto qua altro che no agli isterismi sia valsoia la piz la piz no agli isterismi la piz qua dobbiamo alzare il livello di attenzione perché se non lo avete capito non sto una zambela cristiana tra le altre cose per una volta sono stato qua lo posso fare il nome parlo di luca serafini perché io reputo luca serafini uno dei migliori giornalisti in assoluto in ambito di milan persona squisita quindi tutto ciò che scrive io praticamente vedo la perfezione in ogni cosa che scrive ieri invece ho letto una cosa che non mi mette assolutamente d'accordo con lui non sono assolutamente d'accordo con lui diceva che secondo lui il rallentamento insomma delle firme di maldini e di massara non hanno inciso per quanto riguarda i diciamo le situazioni botman e sanchez che come sappiamo bene adesso stanno diventando molto complicate per non dire che se ne hanno scelto la piz per non dire che se ne hanno scelto la piz e in questo caso io non sono affatto d'accordo con luca serafini perché è evidente che il che lo staff dirigenziale si è in un certo senso fermato anche se ci dicono che li hanno visti lavorare a casa milan eccetera ma ci mancherebbe non è che uno tra l'altro sono sotto contratto fino al 30 di giugno non è che uno se ne va in vacanza durante il mercato per due tre settimane per un mese da quando è finito il campionato è normale lavorare ma certo è che non puoi affondare il colpo perché se tu hai a disposizione sai già quanto devi avere a disposizione eccetera puoi affondare il colpo puoi diciamo sistemare una volta per tutte le cose che hai già apparecchiato da mesi e mesi se non l'hai fatto è semplicemente perché non sai se sarai tu a portare avanti determinate cose e soprattutto non sai se la proprietà magari ha un budget diciamo consono a quel tipo di acquisti quindi ragazzi non è così almeno per quanto mi riguarda in questo caso luca serafini ha detto una cosa non esatta ma ovviamente ripeto è una tan è una proprio una una mosca bianca una cosa più unica che rara mi andava di dirlo non perché vorrei mettermi in contrasto ma assolutamente solo perché mi ha fatto specie vedere una frase del genere detta da uno delle menti più intelligenti una delle persone più intelligenti del ripeto del panorama calcistico rosso nero come giornalismo ovviamente il budget il budget adesso arriviamo anche alle parole di scaroni che sono fondamentali perché anche di qua bisogna capire tante cose quindi ragazzi leggevo il budget è di ho letto 50 milioni escluso le cessioni ho letto 45 da un'altra parte angorchio street stamattina ho letto 60 quindi si parla di queste cifre qua io prima di tutto non so come escano queste cifre visto e considerato che al milan praticamente non sa mai niente nessuno ed è uno dei motivi che spesso e volentieri ci mette anche le diciamo le testate giornalistiche contro perché il milan non si sbilancia in questo senso non fanno uscire mai nomi anche se ultimamente questi nomi qua si sapevano perché sono stati trattati da mesi e mesi e quindi quando la cosa è così lunga è chiaro che qualcosa esce fuori però se stiamo parlando di diciamo una cosa così importante come un budget mi sembra un pochino strano adesso tutti quanti a dire mamma mia 45 milioni 50 milioni c'è la mafia per fare un market non è sbagliato nel senso che non è che stiamo parlando di cifre che ci aspettavamo noi tutti ci aspettavamo dopo uno scudetto e dopo un cambio di proprietà senza esagerare un 80 90 milioni di euro netti e diciamo al netto delle cessioni una cifra diciamo che ci starebbe visto è considerato lo step che bisogna fare per iniziare a fare sul serio anche in ambito europeo però è anche vero che bisogna tener conto del fatto che il mercato si può fare anche in maniera diciamo intelligente anche se io lo vedo più in maniera più furba in maniera più diciamo come dire fare i soliti il soltandrallazzo lo soltonbrugge cercare praticamente di fare per fare un esempio è giusto per fare un esempio come sta facendo marotta che al di là del fatto che non potrebbe farlo visto e considerato i problemi economici dell'interno ma non voglio tornare sul solito discorso però è anche vero che lì in questo momento qua sono stati praticamente portati a casa un giocatore come lukaku con un prestito neroso di 10 milioni più bonus a quanto pare non so come faranno a mettersi anche quei 10 milioni di stipendio sul gruppone netti ovviamente quindi non sappiamo questa cosa come va avanti se magari se lo divide con il celsi non lo so se il celsi dopo aver fatto quell'operazione di merda gli paga anche lo stipendio ragazzi a sto punto chiedo mando una lettera al celsi direttamente al celsi e gli chiedo se mi vogliono campare accadesi ma tu che cosa vuoi no no voglio un paio di mila euro al mese niente di che giusto per cambiare e che cazzo di 5 milioni pura code allora sto punto perché hai speso 120 milioni glielo regali per 10 sai com'iede smoglameg non si sa mai capace purché accettano e quindi io quasi quasi una lettera della madre scende ma vuoi cambiare per 2 mila ma anche mille euro al mese mi basta poi magari faccio io qualcos'altro e vediamo e quindi questa cosa qua però certo è che stanno prendendo questo in questo modo qua stanno prendendo di bala a zero a dimostrazione del fatto che quei giocatori lì vanno presi a zero è vero anche lì contratto importante però non è che si può avere caule clum non si può avere diciamo la moglie ubriaca e la botte piena da una parte diciamo devi godere dall'altra da paghe quindi posso capire che lo prendi a zero posso capire che dall'altra parli paghi magari un ingaggio importante eccetera ma visto e considerate che di ingaggi importanti noi ne stiamo anche diciamo risparmiando col tempo non pagherai più i soldi che hai pagato a Ibrahimovic perché prenderà una cifra simbolica quindi si parlava di 7 milioni si parla di un milione di un milione e mezzo più eventuali bonus stai risparmiando un sacco di soldi hai dato via a Romagnoli al 99 per cento andrà alla Lazio anche qui lui era arrivato a prendere una costa come 5 milioni e mezzo 6 milioni al Milan grande Mirabelli tanti applausi a Mirabelli fa solo mu fa tanti cappelli vabbè lasciamo perdere che si è andato via e chiaramente in questo momento non l'hai ancora sostituito quindi tu i soldi da una parte li stai risparmiando devi vedere un pochino come diciamo sistemarli e alzare il livello della rosa quindi quello era un altro acquisto che si poteva fare ma ce ne sono talmente tanti di giocatore di giocatori a zero che fanno al caso nostro ma non solo al caso nostro che veramente a volte tu dici vabbè io ho 50 60 milioni di budget però ci sono anche quei giocatori lì che posso prendere e magari riesco a dar via qualcuno in qualche scambio qualche giocatore interessante che ce ne abbiamo veramente tanti per magari limare quindi loro sanno meglio di noi come devono fare a mantenere diciamo il budget nei limiti e a fare comunque una squadra importante la cosa importante è che il tempo gioca a nostro sfavore perché in questo momento qua sei bloccato sei bloccato quindi non agli isterismi ucaz non agli isterismi perché noi dobbiamo avere la possibilità di operare sul mercato perché non siamo gli unici a farlo non so se mi sono spiegato qui ci sono delle squadre che vogliono i nostri stessi giocatori non sei l'unico a fare mercato non puoi permetterti di dire ad un renato sanchez ad un botman aspetta tre mesi che io ho bisogno di parlare con la mia proprietà se hai un accordo eccetera devi chiudere devi chiudere non la si porta per le lunghe perché poi si inseriscono gli sceicchi di turno e l'hai perso il giocatore e l'hai perso il giocatore e infatti ieri nell'intervista di scaroni scaroni ha detto tra le altre cose ha detto noi sicuramente c'è stato diciamo ci sono stati dei problemi nel senso con le tempestiche riguardanti infatti il passaggio di proprietà che hanno un pochino bloccato la situazione è l'unica cosa decente che ha detto perché poi ha detto leao io sono io non dico incedibile non è il mio diciamo il lato sportivo lo lascio a Maldini in questo momento qua però noi abbiamo dimostrato il Milan ha dimostrato che riesce a sostituire i giocatori anche facendo delle cose straordinarie come ha fatto con Calolo Kier ma che cosa vuoi dire così che state già mettendo in preventivo che dobbiamo vendere il nostro miglior giocatore quel giocatore che abbiamo aspettato abbiamo coltivato che adesso che è diventato e non è ancora quello che deve essere ma adesso che sta diventando quel giocatore lì che vi ho sempre detto che facciamo prendiamo e lo vendiamo anche questo è vero ma noi quei giocatori dobbiamo tenere se no questa proprietà nuova che è arrivata che cosa è venuta a fare che cosa è venuta a fare a festeggiare gli scodetti degli altri a vedere com'è bello allora caro Gerry Cardinale se vuoi davvero entrare nella storia del club e mantenere fare le foto che hai fatto eccetera eccetera dove io sono rimasto anche diciamo bello colpito da quella situazione là devi fare tu queste cose qua quindi vai a Leao e di a Leao quanto vuoi caro mio sei milioni sette milioni e li devi dare perché altrimenti noi non cresceremo mai che una volta viene nella tele nel senso che una volta puoi trovare un giocatore all'altezza la seconda volta di nuovo va via quello e ne trovi un altro forte è successo come Gnan è successo con in questo caso Calolo Kier se vogliamo succederà tante altre volte magari un'altra volta una volta non ti va bene che succede che perdi uno dei migliori in assoluto e che cosa come lo sostituisci tra l'altro con un budget del genere spero che non sia proprio esattamente quello se fai un acquisto buono i soldi sono finiti si parla di 40 milioni per The Kettler come li vogliamo spendere 50 milioni a budget cioè fatemi capire quindi io tante cose veramente le capisco vabbè ragazzi il vero il vero diciamo scaroni la cosa veramente al di là del discorso stadio al di là del discorso diciamo che riguarda Maldini e Massara e tutto il resto una cosa importante l'ha detta anche e soprattutto a riguardo di Ivan Gazidis che praticamente a quanto pare resterà al suo posto fino alla scadenza del suo contratto che è novembre e questa è una notizia clamorosa infatti ne volevo parlare magari in un altro video per capire bene quali sono poi gli scenari in questo senso qua perché è chiaro che se tu vai a rinnovare diciamo non rinnovi il contratto e va a scadenza il contratto di Ivan Gazidis che fino ad ora è stato il CEO del Milan quindi una persona molto ma molto importante rappresentante molto importante della nostra dirigenza è una notizia molto molto ma molto importante perché evidentemente conferma magari il fatto che tra Maldini e Massara e Gazidis le cose non andavano proprio in maniera eccezionale che magari la società la proprietà nuova ha fatto una scelta rispetto a dare continuità a Gazidis piuttosto che a Maldini evidentemente questo è stato uno dei motivi diciamo di tutto questo tempo qua sperando insomma che la quadra si sia trovata ma visto e considerato ripeto per l'ennesima volta che la firma e arriva la firma ecco le firme e finalmente finalmente ad Austin sti firm ad Austin sti firm non li abbiamo viste queste firme quindi la firme la firme la firme dobbiamo vedere i fatti queste firme fino ad ora non sono arrivate e arrivassero perché ripeto mancano nove giorni alla fine del contratto di Maldini e di Massara ragazzi io vi saluto vi invito a lasciare un like che è molto importante a magari condividere questo video qua ad iscrivervi al canale perché molti di voi non sono iscritti ed è grave perché è assolutamente gratuito non c'è nessun tipo di problema a cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta c'è ogni qual volta ci sia un nuovo video eccetera eccetera ragazzi che altro dirvi tasto grazie per donare abbonamenti per lo stesso motivo vi voglio bene vi auguro una buona giornata forza lotta e vincerai non ti lasceremo mai ciao a tutti